La paura dell'uomo costituisce un laccio, ma chi confida nell'eterno è al sicuro. Un fiume, durante la sua tranquilla corsa verso il mare, giunse davanti a un deserto e quindi si fermò. Aveva solo delle rocce intorno a sé e tanta sabbia di fronte. Era preoccupato e pensava di non poter andare più avanti perché si sarebbe perso nella sabbia e quindi sarebbe morto. Ma il tempo andava avanti, trascorreva e il sole piano piano asciugava la sua acqua. E quindi diventa preoccupato, si preoccupa così tanto che inizia a gridare e il vento che passava di lì lo ascolta. E impietosito gli dice, ma perché non ti lasci prendere dal sole e poi io ti trasformo in una nuvola e ti porto verso il mare. Lì tu tornerai ad essere acqua. Per il fiume una trasformazione tale significava lasciarsi completamente andare, significava morire per poi rinascere. E per il fiume ci voleva una grandissima fede nei confronti del vento e nei confronti del sole perché poi potesse ritornare ad essere quelle goccioline di acqua. Il fiume non si fidò né del sole né del vento e quindi decise di rimanere lì cercando di trovare una soluzione alternativa alla sua fine. Questa storia in qualche modo riflette la vita di qualcuno di noi o anche la mia o forse anche la tua. è che molti dimenticano che c'è un modo solo per superare i deserti della vita. Lasciarsi trasformare da Dio, lasciarsi trasportare dal vento dello Spirito Santo è un rischio che pochi accettano di correre. Ebbene, quello che voglio dirti questa mattina è di correre il rischio di lasciarti trasformare da Dio per poi essere ciò che vorresti essere veramente ciò che per cui sei stato creato che è quell'essere meraviglioso Corri il rischio di seguire Dio Buona giornata Buona giornata